Siamo con Palagi, mister, saremo tanta. Cosa si prova in questi momenti, mister? Un po' di delusione, si prova, perché al di là che era una petta molto delicata, perché sia per noi che per loro, ci si prendono i play-out. Chiaramente loro ci hanno messo più grinta di noi e hanno vinto immediatamente. Noi, purtroppo, siamo un po' anche qui in emergenza, tra infortuni, tra squalifiche, tra tante cose durante il campionato che sono capitate, che siamo ritrovati, che non si immaginava di arrivare all'ultimo per giocarsi in play-out. Cosa non ha funzionato quest'anno, mister? Ma, diciamo, troppi cambi di allenatori sono stati e poi tante idee diverse, tutti dicevano la sua e purtroppo la squadra mi ha risentito. In un dato momento avevo trovato una certa armonia, un certo gruppo e poi si è un po' disfatto. Abbiamo perso giù tre giocatori importanti, come Iaffolla, come De Marte, come per squalifica, purtroppo, Nando e Roggio. Insomma, sono tre uomini fondamentali per noi. Sono tre uomini di centro campo che sono mancati completamente. E ne abbiamo riparato quelle conseguenze con queste paese qua, che volendo ci potevamo salvare almeno tre giornate prima, se non venivano questi inconvenienti. Grazie, mister. Prego.